24 milioni di euro investiti nei porti della Calabria grazie ai fondi PAC, un ulteriore importante tassello nel percorso di riqualificazione e sviluppo del sistema portuale calabrese, intrapreso dalla Regione già dal 2017. Se n'è parlato il 21 ottobre a Catanzaro Lido nel corso di un seminario tecnico-scientifico dedicato ai porti regionali nell'ambito del programma di azione e coesione che è alla base della programmazione regionale. Il programma di azione e coesione nasce come programma complementare, quindi assolutamente di affiancamento rispetto al programma operativo regionale finanziato con i fondi strutturali dell'Unione Europea. Complementarità significa non solo affiancamento delle risorse nazionali a quelle programmate all'interno dei programmi operativi finanziati col bilancio comunitario, in maniera tale da potenziarne gli effetti, ma significa condivisione degli stessi obiettivi che nascono sotto il più ampio cappello della politica di coesione e quindi della politica di sviluppo regionale che, come sappiamo, è una delle finalità principali già definite nell'ambito del Trattato dell'Unione Europea. Noi svolgiamo un ruolo di accompagnamento nella fase con i beneficiari dei finanziamenti dei vari programmi nazionali e comunitari, sin dalle prime fasi, diciamo, di ammissione a finanziamento, se non ancora preventivamente, in quanto la selezione del beneficiario e dell'intervento avviene quasi esclusivamente attraverso avviso pubblico o bando. Noi abbiamo messo in cantiere una programmazione che, per quanto riguarda la portualità, recupera ritardi decennali perché una regione che ha 800 km di costa non può non porsi il problema di utilizzare e sfruttare questa opportunità. Da una capacità di investire relativa ai programmi, veniva fuori un programma e allora si finanziava quel programma e quindi eravamo in qualche modo soltanto oggetti di programmazione fatte da altre parti, a Roma o a Bruxelles, invece col piano delle sport siamo diventati noi i soggetti. Abbiamo stabilito come vanno finanziati gli intercontinentali, come i nazionali, come i ragionali. Quindi al contrario di come si faceva una volta, sono i programmi a essere curvati verso gli interessi della regione, verso gli interessi dei cittadini della Calabria. Gli interventi per lo sviluppo e il potenziamento del sistema portuale si inquadrano in una strategia coordinata. In questi due anni la regione, credo per la prima volta, ha affrontato il tema della portualità in maniera organica e incisiva. Noi abbiamo investito molto su Giulia Tauro, abbiamo investito sulla portualità classificata nazionale, mi riferisco ai porti di Corigliano, di Crotone, di Vibbo, di Villa San Giovanni, di Reggio Calabria e abbiamo programmato investimenti importanti sulla portualità regionale. Fondamentale per la definizione di questa strategia è stato e continua ad essere il Piano Regionale dei Trasporti, che ha superato il vaglio della Commissione Europea ed è stato redatto con il coinvolgimento diretto del territorio. Il piano non è stato fatto in qualche ufficio della regione, ma è stato fatto in un anno di valutazione ambientale strategica che ha visto coinvolti tutti i cittadini della Calabria. Oltre ai soggetti competenti sono stati chiamati i comuni, gli enti e le associazioni di interesse per condividere il piano, cioè in modo tale che il piano sia un piano dei cittadini, quindi che sia integrato all'interno del territorio. L'obiettivo principale è quello di rendere il sistema portuale regionale un sistema integrato, ma che rispetti le funzioni di ogni singolo porto, per cui vengono rispettate le funzioni del porto internazionale di Gioia Tauro, che certamente sono differenti dalle funzioni espletate invece da un porto nazionale o da un porto regionale. Banalmente è stato individuato un gap infrastrutturale su cui intervenire, tra quella che è la situazione della regione Calabria e quella che si riscontra nelle altre regioni. Mettere insieme la pubblica amministrazione, quindi le scelte della pubblica amministrazione, insieme alla ricerca e poi le imprese, significa veramente generare un approccio nuovo che consenta realmente di produrre valore. Nel corso dell'evento si è parlato anche delle prospettive future del sistema portuale calabrese nell'ottica di rendere la Calabria una regione connessa, green e sostenibile. Per quanto riguarda il futuro si punta ovviamente anche alla nuova portualità, il piano regionale dei trasporti ha individuato 23 ambiti di nuova portualità e questo è il prossimo passaggio che ci si prefigge di fare, cioè andare a accompagnare, fare un percorso di accompagnamento completo per la realizzazione efficace di queste nuove infrastrutture portuali. La sostenibilità ambientale è cruciale, quindi non soltanto i nostri porti saranno nuovi come innovazione tecnologica, ma noi puntiamo ad avere tutti i porti green. Noi già siamo su una buona strada perché eravamo già a Bantiera Blu, ma la possibilità del finanziamento della regione ci dà l'opportunità di poter mettere tutta una serie di innovazioni nei servizi e è meglio far diventare il nostro porto come porta di accesso all'interno del nostro territorio, non solo il territorio di Cedrado, ma tutto il territorio del terreno cosentino per apprezzare le bellezze naturali che abbiamo. Stiamo lavorando su un brevetto che abbiamo sviluppato in Reggio Calabria, nella nostra università, che prevede la realizzazione di dighe portuali attive in grado di produrre energia elettrica sfruttando le onde di mare. Adesso c'è anche un'applicazione nel porto di Roccella Ionica, il porto delle Grazie, un porto turistico sulla costa ionica della Calabria che diventerà totalmente autonomo dal punto di vista energetico. I porti regionali dovranno essere in qualche modo quasi il biglietto avviso di presentazione di una nuova Calabria che è verde, ma non solo perché ha i quattro parchi nazionali, i quattro parchi importantissimi, tre nazionali e uno regionale, ma perché tutte le infrastrutture che di solito sono impattanti, che creano guasti eccetera, anzi devono essere gioielli di questa nuova Calabria, appunto una Calabria green. Calabria